...e con le perspezioni che forse non riusciamo nemmeno noi a vedere in diretta perché la giubia è posizionata in maniera ideale... ...dietro all'attrezzo... ...di nuovo la Iordace intanto... ...da lì le tasse piccole cose che forse... ...tanta volta che noi ce ne accorgiamo quando poi la regia ci ripropone il replay... ...l'unica squadra a livello mondiale che ha tutte le atleti che presentano almeno due abitamenti... ...e due o tre due abitamenti e mezzo sono le sostitenti... ...campionese olimpiche in carica... ...rotata, flick, due abitamenti...